siciba di carogne domanda voi avete detto che l'aquila è più evoluta del condor perché questo siciba di carogne ma questa caratteristica non dovrebbe essere invece motivo di maggiore evoluzione in quanto il condor non uccide guida potrebbe sembrare così eppure non è così perché figli cari l'uccidere come fa l'aquila denota una certa organizzazione del veicolo mentale e del veicolo astrale per uccidere bisogna creare una serie di azioni reazioni domanda però voi avete detto che il panda che non uccide si nutre di vegetali è un animale evoluto guida ma il panda non appartiene al periodo uccelli appartiene un altro periodo animale i parametri evolutivi variano da periodo a periodo del regno animale i parametri evolutivi del selvaggio non possono essere quelli del santo e mi sembra che ci sia una perfetta analogia